Ciao, questo video è su un rilassamento del Wulff elettroscope, uno dei elettroscopi che Victor S ha usato circa un anno fa. Ora iniziamo a discharare l'elettroscope, solo mettendo la mano sul plato. Ora proviamo a testare l'elettroscope, simulando il cosmo di un semplice di radio 226. Quindi abbiamo iniziato a caricare l'elettroscope. Questo è il semplice di radio. Radio 226 è un radio TV isotope. E ora mettiamo il semplice all'interno dell'elettroscope, in questo caso l'elettroscope è aperto sul palco. E ready for start dimension. through the window you can see the two wires, they are distance almost 2 mm. You can see the operation of charging for now. And behind the shadows are because they are inserting the sample of radio. From now the elettroscope gradually lost its charge. The whole process takes 9 minutes, more or less. But the video is accelerated so it takes about 3 minutes. Of course the discharge time depends from the distance between the wires and the radio active sample. We think that this instrument is a good didactic experiment and also not too hard to rebuild. And is ideal to show ionizing process for instance. to show ionizing process. An instrument like this was taught by Victor S. With the aim to measure beta radiation in a higher atmosphere. We brought this electroscope on the Vaness expedition, recalling 100 years of cosmic rays. You can see the Vaness Hot air balance expedition in other videos. thanks for watching.